I carabinieri della stazione di Sestrier hanno denunciato all'autorità giudiziaria per furto e danneggiamento quattro giovanissimi residenti nell'Interland torinese e alloggiati a Sestrier per un breve periodo di vacanza. I ragazzi di 14 e 15 anni nella notte del 20 agosto sono usciti nascosto dall'hotel in cui stavano alloggiando e dopo aver rotto con dei sassi i finestrini anteriori di due autovetture parcheggiate in centro paese hanno rubato una macchina di proprietà di una coppia di 75 anni anche loro alloggiati per le vacanze estive al Sestrier. Dopo aver effettuato alcuni giri in paese il veicolo è stato abbandonato in una zona non lontana dal centro abitato non prima di essere stato ulteriormente danneggiato distrutti i finestrini, i parabrezzi e danneggiato all'interno e alcune parti meccaniche rendendo di fatto l'auto inutilizzabile. Le indagini sono scattate successivamente alla denuncia di furto del veicolo dei due coniugi e i giovani sono stati identificati successivamente la visione del sistema di videosorveglianza del paese. Lo abbiamo fatto per noia, hanno detto i carabinieri che li hanno convocati in caserma unitamente ai loro genitori.